È abbastanza scandaloso, di Roberto Lerici. Beh, è abbastanza scandaloso che uno come me sia finito qui sopra. Ma nessuno ci ha fatto caso. Il mondo si preoccupa di ben altro. E ha ragione. Nello sfascio generale come potrebbe occuparsi di uno come me che cerca di dar segni di vita tra tanti eroi alla ribalta, piombato qui da un passato breve come un soffio. Un po' stanco per la verità, ma felice di sentire ancora sapori non dimenticati, gioie sottomesse al tradimento del tempo, bellezze sfacciate e leggere come giornate di primavera. Io qui sopra ho vissuto e vivo come tutti. Io qui sopra ci sto anche bene. Dormo, sogno, mi sveglio, ridormo, mesdraio, ma risveglio, chiedo caffè. Caffè, 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 caffè. Io senza caffè non ragiono, non posso parlare. Caffè. Ma chi sono diventato io adesso? Chi sono io? Non lo so. Forse un seduttore sedotto. Faccia sua dente, poco persuasa. Tentatore, tentato? Malato, navigatore solitario. Sempre in cattive acque, nel senso morale dell'acqua. Poco disposto alla vita associata, ma a carico di umanità. Forse attore. Sì, sono un attore. Sì. Grazie.